Il peggio non è un passaparola che diventa un post su Facebook, ma il commento di qualcuno su qualcosa ha trasformato in titolone. Un universo 2.0 tutto virtuale, dove i cittadini approdano per capire cosa succede nella propria città. La politica modugnese non è certamente fuori da queste dinamiche moderne. Il Partito Democratico nelle ultime ore è sceso in campo chiedendo direttamente al sindaco di Modugno, Nicola Magrone, di lavorare e collaborare insieme affinché si possa avere una diretta streaming delle sedute dei consigli comunali e magari anche una replica in tv. Solo così, spiega il PD, i cittadini potranno sentirsi partecipi della democrazia attiva. Solo così i modugnese potranno partecipare al dibattito politico senza fronzoli. Il sindaco Nicola Magrone, interpellato da Punto TV, ha spiegato nessuna obiezione sulla diretta streaming. Bisogna però fare un bando e trovare i fondi. In ultima analisi, il Partito Democratico chiede al primo cittadino di mettere mano al regolamento comunale sulle riprese e audio-video dei consigli comunali. Mostra, si legge nella nota, alcune lacune. E anche in questo caso sintonia col primo cittadino che nelle linee programmatiche del suo mandato ha inserito l'aggiornamento e il restyling dei regolamenti comunali.